Il corpo. Tutti gli attori hanno un corpo, accusiamolo. Il lavoro che stiamo facendo e che Valerio penso voglia stimolare è un lavoro di sensibilità, di ascolto. Allora, il mio lavoro è di stimolare questo ascolto. Mi piace la concentrazione, mi piace la precisione di uno stato in cui una persona può trovarsi quasi da sola con l'altro attore. Mi piace quando l'altro attore è non egoista ma è con l'altro. Io vengo da una compagnia in Inghilterra che si chiama Complessité e Complessité vuol dire avere la complicità con l'altro. Li porto attraverso uno stadio in cui c'è gioco per arrivare poi con quel piacere o concentrazione a degli altri livelli che sono quelli che Valerio Binasco chiede, che sono vicino alla morte, vicino alla visione di uno spetro, vicino a molto più profondi. Grazie a tutti.